Welcome back! Eh sì, è il caso di dirlo, non potevo esimermi dall'introdurre così questo video con una citazione di una famosa espressione di saluto inglese. Bentornati, ben ritrovati, welcome back! E perché? Perché direte voi non potevo esimermi? Beh, perché oggi io vi parlo di uno dei libri, uno dei libri più belli in assoluto della storia della letteratura italiana. E sto parlando di La Pelle di Curzio Malaparte. Allora, voi direte, La Pelle. Io non la conosco, direte voi, La Pelle, no? Molti la conosceranno, qualcuno no. Però più probabile è che non la conosciate, è che non conosciate questo splendido romanzo. Per quale motivo? Perché La Pelle, Curzio Malaparte, ma gran parte dei grandi autori del Novecento Italiano, non sono affrontati nelle scuole. Quindi io premetto questo video dicendo, mi augurerei che un romanzo come La Pelle, ma c'è anche altri splendido romanzo, ci sono Napoli 44, eccetera, vengano messi obbligatori come letture nei licei, quando si studia la Seconda Guerra Mondiale. Perché invece non me lo auguro? Beh, non me lo auguro perché se lo mettessero come obbligatorio non se lo cagherebbe più nessuno. E invece noi lo vogliamo leggere, Malaparte, vogliamo leggere La Pelle, e io vi dico che Curzio Malaparte è il mio scrittore preferito dopo Italo Calvino. E nella top 3 io ci metto Italo Calvino, Curzio e poi il Lucianone Bianciardi. Gli ultimi due toscanacci doc. Sì, perché Malaparte è un toscano, è di Prato. Ha il padre bavarese, ha la madre milanese, infatti si chiama Kurt Heiligstuckert. Suckert mi sembra di nome originale, però ha scelto questo nome, Curzio Malaparte, proprio per contraltare a Bonaparte. A una perone Bonaparte lui voleva essere invece portatore di una mala parte, di una mala sorte o quello che volete, no? Quindi già il nome la dice lunga sul personaggio, ovviamente, un personaggio controverso, un personaggio che ha aderito al fascismo. Non è una novità, che era molto amico di Galeazzo Ciano, che quando si è trattato di firmare l'accordo del 43, del settembre 43, e si è ribattato tutto perché c'è stato l'armistizia e poi la firma con gli alleati, lui è passato di là subito con gli alleati. E questo la dice lunga sull'italialità di questo personaggio, che era anche un poeta, infatti il suo libro di poesie, che oggi è introvabile negli stores, si chiama L'Arci Italiano, molto bello. Io quest'anno, sapete che faccio quest'anno io? Lo volete sapere? Io quest'anno vi scasso i gabbasisi con Malaparte, sì. Io quest'anno lo dedico a Curzio Malaparte, che è autore poi di un grande libro meraviglioso, Che maledetti toscani. La pelle è un libro degli anni 50. È un libro che descrive l'Italia liberata, è un libro che descrive un po' l'esperienza autobiografica di Malaparte, che appunto dopo la firma del trattato con gli alleati si è unito all'esercito alleato del sud Italia e ha percorso tutta l'Italia dal sud da nord. Quindi c'è questa componente autobiografica, ma poi c'è una componente fantastica, fantasiosa, che è tipica dello scrittore, tipica del narratore vero, e questa componente in questo romanzo scade spesso nello sceno o nel macabro. Ecco, nello sceno o nel macabro. Nel macabro perché ovviamente si parla di guerra, però gli orrori della guerra vengono sempre affrontati, vengono sempre trattati con un filtro ironico, con un filtro leggero, con un filtro divertente. E questo dà proprio l'idea dell'oscenità del libro. Questo è un libro che si può tranquillamente definire uno sceno, non solo perché racconta anche di cose sessuali o di cose che solitamente non erano riportate nei libri, soprattutto al tempo, ma perché lo fa con un piglio assolutamente leggero. E io, questi scrittori leggeri, questi scrittori che sanno proporre grande letteratura, rimanendo sempre con un occhio distaccato che gli consente di applicare un filtro ironico e reale. Voi pensate, nella guerra, nella seconda guerra mondiale è successo questo, quindi lui questo filtro l'ha applicato in quella dinamica che era veramente la più terribile del Novecento, questi scrittori io ovviamente li adoro. La pelle l'ho adorato quindi per lo stile di Malaparte, che è incredibile, Malaparte è un tratteggiatore di paesaggi, di paesaggi Napoli, quando parla del Vesuvio, quando parla del Lungomare, una roba pazzesca. E poi Malaparte è un erede vero di Dante. Se mi seguite su Instagram sapete che io l'ho definito così, erede vero di Dante, non solo perché Nabon Pratese amava Dante, ma anche perché questo libro è farcito di metafore dantesche, e voi direte ma come è possibile? Beh, innanzitutto il libro stesso è una metafora dell'inferno. La pelle narra proprio del viaggio di Malaparte nell'Italia liberata, nell'Italia che si sta liberando, che assomiglia sempre di più a un inferno dantesco e vi assomiglia sempre di più, anche proprio per quello che vi dicevo prima, per l'utilizzo leggero anche delle espressioni, Malaparte riflette su questo i maledetti toscani, in cui dice che se l'inferno l'avesse scritto un milanese, un napoletano, un bergamasco, o qualsiasi altro popolo della terra, non sarebbe stato così bello. Perché è bello l'inferno? Perché Dante fa scureggiare un diavolo, lo dice anche lui, nei canti, quelli là, del canto dell'ormico, ho di precisare qual'è il ventitresimo, mi sembra, fa scureggiare un diavolo e dice ed è il culo l'aveva fatto trombetta. Se l'avesse scritto un milanese avrebbe detto ed egli lanciò un impetuoso vento, capite no? Ecco, questo vi voglio dire, il toscano scrive i libri così, questo vuol dire scrivere i libri in modo toscano, quindi non solo per questo richiamo al piccolo, all'ironico, al registo del comico, ma anche proprio per l'utilizzo della metafora dantesca. Dante per qualcosa è famoso? È famoso per quelle metafore in cui inizia dicendo e come, fa la metafora molto lunga descrivendo una serie di cose e poi dice così io col mio maestro. Dante è famoso per questo modo di scrivere e questo libro è infarcito di queste metafore dantesche. Io non ho mai trovato uno scrittore che ha fatto tesoro così tanto dell'uso della metafora dantesca, quindi questi sono, se volete qui squire, sono cose un po' di stile, cosette che mi garbano a me, però ecco, queste due cose sicuramente me lo fanno amare tantissimo, insieme alla descrizione dei paesaggi. Veniamo però al libro. Come vi ho detto, il libro è una risalita dell'Italia, non di malaparte dal sud al nord Italia, al nord Italia a Milano assiste anche all'impiccagione di Mussolini. E' un libro che parla di un'Italia veramente ridotta male. Parla della miseria, parla della miseria italiana, ma non nel senso tragico del termine. Una miseria in cui si inizia a intravedere un cambio di paradigma, soprattutto legato alla commerciabilità, alla vendibilità delle cose e delle persone. Questo appare soprattutto nella prima parte, in cui lui giunge a Napoli, insieme a Jack Hamilton, il suo collega, amico americano dell'armata del sud, giunge a Napoli e vede per la prima volta prostituirsi bambini. Ecco, voi vedete già da questo cosa è terribile, no? La posizione dei bambini. Però lo racconta in modo estremamente leggero. Beh, del resto in letteratura si può fare, basti pensare a Nabokov, no? Si può fare in modo leggero. Lui racconta questo, che a Napoli mai era successo che fossero costretti a prostituirsi bambini, mentre le donne, sì, era successo, dice lui, ed è anche una cosa nobile, una cosa dignitosa, perché lo fanno per guadagnarsi il pane, no? E gli uomini, vabbè, tollerabile, del resto, proprio nei giorni dell'abirazione, e ora me ne parlo, inizia a parlare anche dei cosiddetti invertiti, si chiamavano a suo tempo, cioè gli omosessuali, coloro che arrivavano a Napoli, immassano, e per i bambini, lui dice, non era mai successo. Ed scrive queste scene di una Napoli in preda alla peste, il romanzo intero doveva chiamarsi la peste, poi cambia un nome perché uscì la peste di Camus nello stesso periodo, e quindi doveva chiamarsi così. C'è la peste di Napoli, quindi la sciagura naturale che si aggiunge alla sciagura della guerra, e uno dei temi del libro è che la natura è cattiva, un po' leopardiano, se ci pensate a questo richiamo. La natura è cattiva, la natura ce l'ha con l'uomo, la natura vuole che l'uomo sia afflitto, e quindi nonostante la guerra ci mette il carico, infatti ci sarà, oltre alla peste, l'esplosione del Vesuvio del 1944, che è descritta proprio qua, in pagine tra le più belle, oh, ve lo dico, tra le più belle della storia della letteratura. E vi do anche degli spunti, se mi ascoltate voi studenti del liceo, per una tesi, una tesina di quinta. Possibile che in quinta si faccia sempre la luna, tutte queste cose qua, e nessuno tratti malaparte, ma possibile che non si sia in grado di collegare tutte queste cose, la peste, magari lo sviluppo della medicina, quindi la biologia, uno può avere questi collegamenti, sarebbe interessante anche farci un video a proposito. Comunque, malaparte descrive questa, Napoli, quindi una natura cattiva, questo è il primo termine, che utilizza malaparte, ed è il primo punto da tenere bene in mente. E poi ci si unisce la cattiveria dell'uomo, che ormai ha perso la sua umanità, e ha perso la sua umanità nel momento in cui si è messo a fare la guerra, ovviamente, ma Malaparte, fino all'ultimo, sarà afflitto da un dilemma sul non uccidere, sul non sparare, e gli americani diranno ma tu sei matto, perché se fai così muori, ti ammazzano, muori te prima, e Malaparte invece si rifiuterà per paura di perdere la sua umanità. Alla stessa scena in cui lui si confronta col feto di Mussolini, l'episodio è questo, lui dorme in un'ex in un'ex clinica di un ginecologo piena di feti, no? Piene di feti, deformi, tutti particolari, messi nelle ampolle, eccetera, e sogna che questi feti si svegliano, fanno una sorta di danza macabra intorno a lui, e questo ricorda tantissime cose, potrebbe ricordare nella letteratura classica, nella letteratura tedesca, Freundin, l'amica morte, eccetera, ma ricorda anche Mascia e Orso perché in una puntata c'è Mascia che si sveglia e vede questi pupazzi tra le altre cose. Quindi, ecco, vede tutti questi feti tra questi c'è un feto in particolare che viene portato a processo, infatti il capitolo si chiama Il processo, capitolo straordinario che ve lo dico a fare. Il feto portato a processo è del feto di Mussolini che gli chiede a lui se lo odia, gli chiede se lo avrebbe ammazzato in quel modo come è successo a Milano e lui gli dice no perché è quello che vuole lui e non perde la sua umanità. Mi racconto questo episodio perché? Perché questo è un libro episodico, un libro che può essere letto anche in Londini e Sparzo. Io adoro questi libri. Allora, c'è una particolarità, ora ve la spiego. Io odio, solitamente odio, non sopporto i libri di narrativa sulla guerra perché sono troppo pesanti, la prendono troppo sul serio. Odio, non sopporto i libri rapsodici, i libri episodici, i racconti li adoro, ma i libri proprio pensati, episodici, se fatti male non li sopporto. Io questo lo adoro ed è un libro sulla guerra ed è un libro episodico, quindi vi faccio capire un po' come sta l'andazzo. E tra l'avere capitolo, ora vi leggo, vi dico brevemente quello che mi è piaciuto di più, ovviamente, uno di quelli che ho adorato è Avigliata. Avigliata la voletà. Come fate a non adorare Avigliata? Avigliata dice, ma la parte è un culto uraniano, un culto che si usava all'antica Roma e consiste nel fatto che un uomo sessuale, che era Gigil, in questo caso a Nabal, si mette sotto un velo, sotto un telo, un lenzuolo, quello chiamato come mi pare, con le braccia fuori, la testa fuori e mima il parto. Mima il parto e viene fatta girare questa statua con questo bambino, con questo fallo enorme che poi tra l'altro la parte romperà alla fine del capitolo e tutti assistono a questa Avigliata che viene introdotta all'inizio del romanzo e poi c'è un capitolo intero dedicato con questa scena clamorosa in cui c'è questo Gigil che fa la scena della Avigliata tutti gli omosessuali intorno tra cui l'amico di Malaparte che lo aveva invitato che erano tutti là a guardare mezze città eccetera e da sotto c'era il napoletano che scolava la pasta e prontava la pasta e poi si mettono tutti a mangiare gli spaghetti e la pasta. Voi pensate, no? Il sacro e profano il registro del leggero della leggezza consente di fare queste cose di mischiare questi temi come l'invasione degli omosessuali a Napoli il cambio il passaggio d'epoca anche riguardo l'omosessualità l'omosessualità sotto il fascismo era vista malissimo dopo il fascismo invece ci sarà l'esplosione anche dell'omosessualità e Malaparte la collega questo a un generale degrado dei costumi che potrebbero renderlo anche un pensatore in effetti di destra e la collega al comunismo una parte molto bella in cui dice che il futuro dell'Europa sarà il comunismo sarà il comunismo omosessuale eccetera ma io vi dico anche un altro tema importante bellissimo tema il tema legato ai vincitori agli eroi della guerra ma Malaparte ci dice che gli eroi della guerra sono solo i morti non possono essere in alcun modo i vivi i vivi ma Malaparte ridipinge una scena bellissima come dei topi rintanati sotto le cantine ma dice lui saranno questi vivi proprio a strutturare a progettare a ideare la società del domani e quindi c'è una contraposizione enorme tra i morti veri gli eroi veri che sono quelli morti in guerra e i vivi che si nascondono come i topi e poi sostituiranno a una tirannia un'altra tirannia perché lui la vittoria la vede come una sconfitta questo è anche il senso del libro di una parte la vede come una sconfitta perché l'uomo durante la guerra a cosa si aggrappa alla sua pelle alla mera pelle e qui si arriva al tema fondamentale e io vi leggo proprio la parte in cui ma la parte la parte in cui quella parte parla della pelle e parla con un generale il generale Gillom Gillam non so come si legge e il generale gli chiede che cosa vi ha ridotti così? e lui risponde la pelle la pelle quale pelle? disse il generale Gillam la pelle rispose a voce bassa la nostra pelle questa maledetta pelle voi non immaginate neppure di che cosa sia capace un uomo di quali egoismi eroismi e di quale infame sia capace per salvare la pelle questa questa schifosa pelle vedete si prende un lembo di pelle in un momento lo dice una volta si soffiva la fame la tortura i patimenti più terribili si uccideva e si moriva per salvare la propria anima e quella degli altri si era capace di tutte le grandezze e di tutte le infame per salvare l'anima non la propria anima soltanto ma anche quella degli altri oggi si soffre si fa soffrire si uccide si muore si compiono tante cose meravigliose orribili e di rama alla parte l'umanità è sempre orribile sia che compia cose meravigliose che compia cose orribili ma per salvare la propria pelle si chiede di lottare e di soffrire per la propria anima ma in realtà si lotta e si soffre per la propria pelle soltanto per la propria pelle tutto il resto non conta quindi la pelle il salvare quello che Agamben chiamrebbe la nuda vita farlo però senza avere uno scopo finale ecco l'assenza di scopo questa è una cosa molto etica se ci pensate l'assenza di scopo della società contemporanea che già era tratteggiata da malaparte che ha reso possibile la scesa del fascismo che lui poi ha molto criticato questa assenza di scopo è ciò che fa rimanere solamente un involucro di pelle l'umanità è vista come un involucro di pelle lotta per cose non lo sa nemmeno per cose non c'è un ideale non c'è un valore non c'è la salvezza dell'anima tua degli altri si lotta solo per salvare la propria pelle che sempre pellaccia e negli ultimi capitoli quando c'è la scena nella via Appia bellissima in cui Malaparte insieme al generale americano sfilano per la via Appia e lui gli chiede il generale ma cos'è quello cos'è quell'altro e Malaparte gli indica i luoghi di storia cultura e gli americani non sanno nulla c'è un'ignoranza abissale quindi anche qua si introduce il tema dell'ignoranza americana il tema della svalutazione della tradizione della cultura eccetera beh quando c'è tutto questo c'è anche un uomo c'è una scena in cui trovano un uomo spiaccicato dal cingolo di un cararmato che si è ridotto a una sottiletta una bandiera infatti il capitolo si chiama la bandiera e Malaparte le dice agli americani guardate quella è la nostra vera bandiera perché quest'uomo viene raccolto con un bastone nel portato per essere sepolto e sventola come una bandiera una bandiera di pelle una bandiera quindi vuota un involucro vuoto che non contiene nient'altro vedete ci sono tantissimi temi di Malaparte si potrebbe parlare un semestre universitario di questo libro anche se ne potrebbe parlare ore però io ve lo volevo solo introdurre per farvi capire la bellezza i libri i manoletti perché sono belli e questo è uno dei libri più belli che abbiamo letto in vita mia ditemi se l'avete letto anche voi se l'ho pensato anche voi o iscrivetevi perché insomma il canale va bene però insomma qualche iscrizione in più aiuta e commentate qua sotto se avete domande curiosità e quant'altro ci vediamo alla prossima ciao ciao